Elegante, pratico e sorprendente, questo è Flipbin, un raccoglitore per rifiuti colorato che donerà alla tua casa un tocco di design. Inoltre durerà a lungo, poiché è dotato di garanzia e assistenza brabanzia per 10 anni. Flipbin è disponibile in svariati colori, così ce ne sarà uno sicuramente perfetto anche per te. La capacità totale del raccoglitore è di 30 litri, quindi molto capiente. Inoltre il coperchio si apre con un semplice tocco di un dito. Guarda, proprio così! Non toccherà la parete quando si apre il coperchio, quindi nessun rumore e nessun danno. Flipbin è facile da svuotare e da pulire. Contiene un secchio in plastica rimovibile con manico, al quale si adattano perfettamente i sacchetti Perfect Fit di brabanzia invisibili esternamente. Flipbin possiede un'ampia apertura, assicurando così che nulla fuoriesca dall'alto. Inoltre, la sua base ha un anello protettivo in plastica che evita di rovinare il pavimento. Flipbin misura 29 cm di larghezza e 68 cm di altezza quando è chiuso e, sorprendentemente, è il primo raccoglitore ad essere pulito e colorato anche all'interno. Flipbin è un innovativo raccoglitore per rifiuti molto capiente, comodo da svuotare, sorprendentemente facile da aprire e che decorerà piacevolmente la tua casa.